Davide Russo Un giovane che si è fatto con le sue mani, un giovane che ha deciso di ritornare nella sua terra, di investire nella sua terra e di fare un programma serio di sviluppo per il suo paese, un programma che è onesto, un programma che è per i cittadini, un programma che porta lavoro ai giovani prontesi, alle persone disoccupate di questo paese. E' un giovane che vuole investire, che ha un progetto, un progetto di vita per questa popolazione, un giovane di cui le persone, di cui qualcuno ha paura, ha paura perché vuole portare l'onestà, perché vuole portare il lavoro, perché vuole togliere il ricatto del lavoro, perché vuole fare diventare trasparente il comune di questo posto. Ecco, questo è Davide Russo. Davide Russo non è da solo. Davide Russo è Tunzia Catalfo. Davide Russo è Giancarlo Cancellieri. Davide Russo è Vito Crini. Davide Russo è Mario Gianrusso. Giulia Grillo è Giulia Grillo è Angela Foti, Francesco Cappello, Davide Russo è tutti noi. Quindi, se pensate di fare minacce, intimidazioni, rivolte a una persona, ricordate che il Movimento 5 Stelle è una comunità, una comunità di persone, una comunità di persone che ha un progetto, un progetto di cambiamento serio, un progetto che va verso la vera libertà del nostro Paese. Davide Russo e i candidati del Movimento 5 Stelle presenteranno la lista nei prossimi giorni e sono tutti noi. Grazie. Grazie. Grazie.